Subito dopo la festa patronale di Sant'Antonio Abate, il 17 di gennaio, sono partiti i lavori di ristrutturazione della Casa Museo. Era un sogno che avevo nel cassetto e adesso con gli incentivi statali ci siamo riusciti e è partita la ristrutturazione. La fine dei lavori è stimata per la fine dell'anno, però hanno trovato tante cose da riqualificare che forse andrà oltre il tempo previsto. Nel frattempo tutta la vostra collezione di oggetti? Le abbiamo ricollocate in vari punti. La biancheria, il don, ci ha dato una sede dove sopra l'asilo c'erano le suore, due stanze, abbiamo collocato lì tutta la biancheria. Gli abiti, quelli originali, li abbiamo portati dalle suore di Orta, dalle benedettine di Orta, che ci stanno facendo un lavoro di restauro, di pulitura e anche di imbastitura per il nuovo libro. Abbiamo conosciuto le suore perché siamo venuti alla conoscenza che stavano sistemando quelli di Papa Giovanni di Camaitino e visto che noi con Papa Giovanni, sono andato dalle suore e quando hanno visto questa collezione unica di abiti si sono a parte appassionate ma l'hanno prese veramente in grazia e adesso stanno aspettando dei professori così per catalogarli proprio le stoffe, le origini. No, vi posso garantire che il restauro è veramente conservativo, anzi dove prima trovavamo intonacato che si stava staccando, adesso troveremo la pietra locale a vista, l'arco che prima era coperto, lo lasceremo a vista, la colonna ancora medievale, abbiamo ritrovato questa colonna medievale, verrà rinsanata e tutto tornerà agli antichi. Io spero che per l'anno della cultura Bergamo e Brescia almeno di riuscire a finire, è un sogno che ho nel cassetto, speriamo.